Erika Vinted, non lo metti? Mettilo in vendita! I nuovi filettini di tonno Riomare in monoporzione? Li provi all'olio, li provi al peperoncino, li provi laime e zenzero, li provi, li provi e hai finito il vasetto. Filettini di tonno Riomare, integri e lavorati a mano. Riomare, c'è un mare di possibilità. Oh!